ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un piccolo video per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da aliexpress e da amazon allora per quanto riguarda amazon se mi sbaglio una cosa e ve la dico subito sarebbe il microfono non so se si vede qui ho il microfono ciao 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 sto sclerando allora ho acquistato il microfono che ho attaccato all'iphone 5 che io non utilizzo e quindi l'ho messo qui e sto registrando la voce perché molto spesso capitava che quando registravo passava quello della frutta il signore con la lapa oppure sentivate il cane o sentivate qualsiasi altra cosa nelle vicinanze tipo la televisione e tutto ad esempio adesso stanno guardando la televisione di là voi non sentite niente perché io ho il microfono quindi sentite soltanto quello che riceve il microfono è buono mi è arrivato in pochissimo tempo e quindi ve lo consiglio tantissimo perché ottimo veramente poi qui ho una bustina per quanto riguarda si c'è scritto sefara ma non è sefara perché ho preso delle cose da aliexpress e ve lo volevo far vedere la prima cosa che vi faccio vedere già se mi sbaglio l'avete vista sì l'avete vista in un video che vi vi linkerò qua sopra non so se qua o qua vi linkerò qua sopra sono i puff che sono questi qua io ho preso questi puff e sinceramente mi sono trovata benissimo io con questi ve li faccio vedere uno io ne ho preso sei e ho preso tutte le grandezze cioè ho preso tutta la stessa dimensione scusate ho preso tutta la stessa dimensione perché li volevo abbastanza grandi considerate vabbè considerate la mia faccia allora queste a me piacciono tantissimo e io le ho presi assolutamente le ho presi assolutamente per togliere il makeup allora io cosa faccio ve l'ho anche spiegato nell'altro video ma ve lo spiego anche adesso allora io come li utilizzo li bagno con l'acqua calda li strizzo li strizzo poi passo sulla saponetta faccio abbastanza schiuma e inizio a togliere tutto il makeup che ho sul viso poi rifaccio la stessa cosa lo strofino se vedo che c'è le macchie del fondotinta e lo utilizzo anche per quanto riguarda gli occhi mi strucca tutto io il makeup che ho fatto della befana sexy quindi proprio un trucco abbastanza nero abbastanza forte e tutto l'ho fatto con questo tipo di spugnetta e di solito c'è di solito c'è scritto che li potete mettere nella lavatrice quindi metterla nella retina nella specie di beauty bag a retina li mettete là dentro li potete mettere nella lavatrice sinceramente io lo utilizzate con il sapone nel senso che l'ho lavati lo strofinati e sono diventate bianche come l'originale cioè come la vedete qua quindi per me li potete lavare benissimo a mano e non c'è bisogno di metterli nella lavatrice perché si lavano io ne ho presi 6 li ho tenuti di scorta e li tengo lì belli puliti un'altra cosa che ho preso sempre dall'express è questo set di pennelli ho sentito parlare tantissimo di questo set di pennelli sapete tutti la mia passione per i pennelli e quindi li volevo prendere sono 15 pezzi della marca Jessup che è questa io ho sentito parlare benissimo di questa marca li prendono un sacco di youtuber quindi li ho voluti prendere questo è un set per quanto riguarda gli occhi il colore l'ha scelto la mia amica si c'è un capello mio perché già li ho visti i pennelli li devo lavare non li ho assolutamente non li ho assolutamente lavati sono caduti a terra allora questi sono i pennelli la mia amica ha scelto il colore ve lo faccio vedere uno perché sennò qui ci perdiamo il packaging è questo ed è bianco con la scritta rose gold e anche la parte qui in alto è rose gold i pennelli sono veramente molto molto morbidi non li ho ancora lavati quindi li devo lavare e li voglio utilizzare subito mi piacciono tantissimo ne ho sentito parlare benissimo di tutti questi pennelli questo è proprio un set dove escono proprio tutti e 15 il set di pennelli esce direttamente così non vedo l'ora di utilizzarli e di farvi sapere se sono buoni oppure no il prezzo non era nemmeno caro e quindi vi farò sapere un'altra cosa che ho preso già avevo preso in precedenza che sarebbero questi anellini qua che sono tipo in silicone questo era colorato con dei puntini c'era nero con dei puntini verdi ma si è tolta la colorazione e ne ho preso un altro la mia misura è la numero 7 ne ho preso un altro che è bellissimo ed è blu blu cromato con i disegni si si vede benissimo il colore con i disegni tipo della coda della sirena non so se si capisce aspettate ve lo avvicino ancora un po forse non si vede se lo avvicino sembra tipo la coda della sirena vedete ecco vedete è bellissimo 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 io lo volevo mettere qua ma adesso mi sta grande e quindi lo devo spostare e metterlo nell'altro dito lo metterò qua però adesso devo fare il video quindi lo sposto e poi lo utilizzerò molto molto bello io prendevo la numero 7 per quanto riguarda questo dito ma adesso mi sta troppo troppo grande anche questo infatti di pandora mi sta grandissimo questo invece è quello che mi hanno regalato i miei figli andiamo avanti e vi faccio vedere altre due cosucce che sono queste allora il primo è un porta beauty blender ho preso questo perché ho preso questo perché mi è venuto diciamo quando ho fatto la ricerca della beauty blender che sarebbe vediamo se riesco a prendervela quando ho fatto la ricerca di questo porta beauty blender che ho preso sempre dall'express mi è uscito anche questo a forma di uovo siccome volevo metterlo proprio nella postazione ho preso questo ma sinceramente non mi piace molto vabbè ha i puntini qua sotto ma non mi piace proprio come si apre il fatto che no non mi piace l'unica cosa che si la beauty blender entra vedete entra benissimo io non so se avete già visto il video non lo so se lo metto prima o dopo ma io li ho acquistati da a Lidl quelli a forma di uova aspettate ve lo faccio vedere ho acquistato questi ho acquistato questi e quindi sinceramente questi mi piacciono di più sia la plastica che è molto più resistente questi invece se cade a terra si rompe si francella si rompe mille pezzettini quindi non mi piace un'altra cosa che ho preso è questo ed è un highlighter sempre per quanto riguarda per quanto riguarda aliexpress e ho preso questo highlighter perché è bianco e mi serviva per fare i puntini se faccio dei makeup vedete è un highlighter bianco molto molto bello e molto scrivente e questo è l'highlighter mi sbrigo perché ho visto che sta scaricando la batteria l'ultima cosa che vi faccio vedere è questo ed è il mio portafoglio piccolino per quanto riguarda le borse piccole ve lo faccio vedere anche aperto aspettate prima che si scarica la batteria no non ti scaricare ti prego ed è formato così qui si possono mettere le monete qui è il vano dove mettere tipo foto tessere eccetera eccetera e qui dove vanno scusate da questo lato qui dove vanno i soldi di carta chi ce l'ha per adesso qui non c'è niente e niente questo è un portafoglio adatto proprio per le borse piccoline perché molto spesso io utilizzo le pochettine quelle piccole ci sta col trucco ed è molto molto carino niente ragazze io ho finito mi sono sbrigata aspetta che si sta per spegnere la fotocamera io vi mando un grossissimo bacio ricordatevi di commentare commentate 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 vi raccomando niente io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao ciao